Veniamo. Solidarizziamo innanzitutto con i nostri parlamentari che a Roma stanno facendo questa battaglia contro il nuovo decreto chiamato sicurezza, ma in realtà sarebbe meglio chiamarlo insicurezza, noi lo chiamiamo decreto clandestini, perché di fatto con l'abrogazione dei decreti Salvini che in un qualche modo volevano porre un limite all'immigrazione incontrollata, in questo modo in realtà avremo porti sempre più aperti, avremo una serie di condizioni di fatto che impediranno l'allontanamento dal suolo italiano di coloro che si renderanno responsabili di irregolarità e quindi sarà sempre più difficile gestire il fenomeno dell'immigrazione con tutte le problematiche di ordine pubblico e di sicurezza che ben conosciamo.